Pensioni, pubblicate le date di pagamento per il 2024. Vediamole insieme. Ciao amici di Radio Uci, sono Giulia e in questo Focus Previdenza ci occupiamo delle pensioni e in particolare del calendario dei pagamenti 2024. Anche quest'anno tutti i trattamenti pensionistici, compresi assegni, indenità di accompagnamento per gli invalidi civili e le rendite vitalizie INAIL saranno pagate il primo giorno bancabile di ogni mese. E attenzione perché per giorno bancabile si intendono le giornate lavorative, quindi quando le banche e uffici postali sono aperti e svolgono regolarmente servizio al pubblico. Perciò nei casi in cui il primo giorno del mese capiti in giornate festive, il pagamento sarà posticipato alla prima data lavorativa. Ma adesso passiamo al calendario. Come sappiamo, gennaio era l'unico mese in cui c'è stata un'eccezione, visto che il pagamento era previsto il secondo giorno bancabile e non il primo, cioè mercoledì 3 gennaio. Tutto regolare a febbraio, con i pagamenti fissati a giovedì primo e a marzo, data prevista per venerdì primo. Ad aprile invece i pagamenti ci saranno martedì 2, visto che il primo è pasquetta. Stesso discorso a maggio, la data prevista è giovedì 2, perché il primo è la festa dei lavoratori. A giugno invece le giornate di pagamento saranno due, sabato primo giugno per poste italiane e lunedì 3 giugno per gli istituti di credito. Torna tutto regolare a luglio, con i pagamenti fissati a lunedì primo e ad agosto, previsti per giovedì primo. Mentre a settembre ci saranno lunedì 2, visto che il primo è domenica. Poi ad ottobre fissati per martedì primo e di nuovo novembre due date, sabato 2 per poste italiane, visto che il primo è la festa dei santi, e lunedì 4 per gli istituti di credito. Infine, tutto nella norma a dicembre, perché i pagamenti ci saranno lunedì 2, visto che il primo è domenica. E per ora è tutto, al prossimo Focus.